a me il pesca poteva avere le cubo meduse cioè chi ama i serpenti velenosi i ragni velenosi però ragazzi andate a fare un giro nel web e andate a vedere cosa sono le cubo meduse il secondo animale più potente in assoluto come veleno sono bellissime veramente un qualcosa di indescrivibile cubo meduse piacerebbe guarda che belle che belle veramente uno spettacolo quando uno entra veramente bellissime ottimo mi raccomando ragazzi guardare ma non toccare il loro veleno può sdraiare tranquillamente un elefante bellissime veramente belle mi raccomando ragazzi cliccate mi piace e attivate la campanellina solo su full timer pesca ciao 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 ciao